La Vagna riparte dalla fraternità, si è conclusa la visita pastorale del Vescovo alle comunità dell'ambito. Monsignor Tanasini ha invitato la comunione a riscoprire la vitalità del Vangelo. La dimensione terrena non è l'unica, bisogna essere in attesa dell'aldilà. Il Papa L'Angelus ha parlato della Ressurrezione, Dio ama la vita e la vita è dove ci sono relazioni vere e legami di fedeltà. Missione vuol dire testimoniare il Vangelo con la vita, è uno dei temi emersi dal recente Sinodo per l'Amazzonia. Questa sera faremo il punto in direttamente su. Il Trentino in Liguria ha rinnovato il gemellaggio e l'amicizia tra Portofino e Canazzei. Nel Borgo i figuranti in costume tirolese hanno animato la piazzetta con balli e danze tradizionali. Sesse Levante ospita Mondovisioni, la rassegna di film indipendenti che aiutano a vedere con occhio più consapevole alcuni temi di attualità. Domani il secondo appuntamento al Convento dell'Annunziata. Arriva provvidenziale per la Virtus Entella la sossa di campionato per le partite delle nazionali. Sarà possibile recuperare gli acciaccati. Sabato l'amichevole Alfranchi contro la Fiorentina. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Si è conclusa la visita pastorale del Vescovo Monsignor Tanasini all'ambito di Lavagna. Un'area vasta che comprende molte comunità di fedeli. Dal Santuario del Ponte a Maria Madre, passando per Santo Stefano, Barassi, Sorlana, Santa Giulia e Cavi. Per questo Monsignor Tanasini ha rivolto un invito a camminare sempre più insieme il servizio. Lo vediamo insieme. Ho constatato come questo vostro ambito, questa vostra città di Lavagna, nelle sue comunità parrocchiali, sta camminando sulla via della comunione. Concludendo la visita pastorale, il Vescovo sottolinea la fraternità a quale punto da cui ripartire. Per raggiungere l'obiettivo della comunione, Monsignor Tanasini esorta a riscoprire innanzitutto la vitalità del Vangelo. Abbiamo tempo per tante cose e non abbiamo tempo di fermarsi un poco per crescere nella fede. Ecco questo vi chiedo. E la comunione tra di voi può essere sostegno reciproco per questo cammino. Un altro invito da parte del Vescovo a chiusura dell'Omelia è quello di essere una comunità aperta, capace di vivere la carità, di fare insomma l'esperienza dell'amore, non possessivo, non come chiusura. L'esperienza dell'amore come un'esperienza di incontro, un'esperienza di dialogo, una esperienza di cura delle persone più fragili e di prendersi a cuore tutte quelle realtà incrociate dalla sofferenza e dal dolore. Per la messa del Vescovo un terzo delle panche della chiesa erano vuote e questa, una delle fatiche su cui riflettere, se lo sono chiesto alcune delle persone presenti. La fatica un po' dappertutto penso sia quella di essere presenti anche perché anche alle messe, cioè una volta c'erano tanti bambini, adesso i bambini non ci sono. Dipende forse anche dalla testimonianza delle persone, forse dalla famiglia anche penso, perché i bambini se non vengono i genitori non vengono da soli. Tra le frasi del Vescovo che hanno fatto breccia nel cuore dei fedeli c'è stato anche l'invito a puntare di più sulla corresponsabilità dei laici. Evangelizzare è compito di tutti, con l'essere ancora prima che col fare, quindi prima di tutto con la nostra vita, col nostro stile, col nostro esserci, col nostro prenderci a cuore degli altri. Durante le sante messe domenicali sono stati ufficializzati alcuni avvicendamenti che riguardano principalmente la Valle Sturla. Don Nduvim Vana lascia la diocese di Chiavari per rientrare in Burundi. Le comunità che amministrava saranno così coperte. Don Mauro Gandolfo diventerà amministratore parrocchiale di Vignolo, prete Rinaldo Rocca amministratore parrocchiale a Mezzanego, Don Daniele Beronio, parroco a Prato sopra la Croce e farà il suo ingresso domenica, 24 novembre alle 15, accompagnato dal Vicario Generale della Diocesi, Don Stefano Mazzini. È stata inoltre annunciata la nomina di Don Valerio Traverso ad amministratore parrocchiale di San Lorenzo della Costa a Santa Margherita Ligure. Tutti gli incarichi saranno effettivi dalla solennità del Cristo Re. La fede nella ressurrezione dei morti e dunque la vita eterna è stata il tema al centro delle parole del Pontefice all'Angelus Domenicale. Francesco ha preso spunto dal brano del Vangelo proposto dalla liturgia. Dio ha spiegato ama la vita e la vita è dove ci sono relazioni vere e legami di fedeltà. Al termine della preghiera mariana il Pontefice ha rivolto un appello alla riconciliazione nazionale del sud del Sudan e ha chiesto le preghiere per la Bolivia. Il servizio curato da Radio Vaticana. E la fede nella risurrezione dei morti e dunque la vita eterna al centro delle parole di Papa Francesco all'Angelus. Il brano odierno del Vangelo presenta Gesù che dialoga con alcuni sadducei a proposito della risurrezione in cui essi non credevano. Francesco afferma che le parole di Gesù sulla vita oltre alla morte danno grande consolazione e speranza e che di questo abbiamo tanto bisogno, specialmente nel nostro tempo, così ricco di conoscenze sull'universo ma così povero di sapienza sulla vita eterna. Si tratta di un dubbio che tocca all'uomo di tutti i tempi e anche noi. Dopo questo pellegrinaggio terreno ce ne sarà? Che ne sarà dalla nostra vita? Gesù dice che la vita appartiene a Dio, afferma il Papa, a Dio che ci ama e che ci lega strettamente a noi. È il Dio non dei morti ma dei viventi e aggiunge La vita sussiste dove c'è il legame, comunione, fratellanza ed è una vita più forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario non c'è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a se stessi e di vivere come isole. In questi atteggiamenti prevale la morte, l'egoismo. Io vivo per me stesso, sto seminando morte nel mio cuore. Il Papa conclude con una invocazione alla Vergine Maria perché lei ci aiuti a vivere nell'attesa della risurrezione dei morti e della vita che verrà e raccomanda aspettare l'aldilà. Fare missione vuol dire mettere in campo la migliore strategia comunicativa possibile ma è fare della propria vita una testimonianza. Questo è il pensiero del direttore editoriale del Dicastero Vaticano per la comunicazione Andrea Tornielli al quale abbiamo chiesto di sintetizzare alcuni punti emersi dal recente sinodo per l'Amazzonia. Ecco le sue parole sul tema della missione. Qual è dunque l'urgenza in questo auspicio che anche il Papa ha ribadito di tornare ai poveri dal punto di vista proprio missionario? Il Papa ha appena scritto un bellissimo libro intervista che si intitola Senza di lui non possiamo far nulla, una conversazione con il giornalista Gianni Valente un piccolo libretto ma veramente denso e bellissimo nel quale il Papa Francesco spiega che la missione è nella natura della Chiesa la Chiesa o è missionaria o non è la Chiesa come usa dire il Papa o è in uscita per annunciare il Vangelo o non ha ragione di esistere, non può esistere Talvolta anche noi possiamo rischiare di credere che il successo della missione dipenda da quanto noi a tavolino ci siamo messi a pensare come essere missionari quanto siamo stati smart, bravi a usare i nuovi mezzi di comunicazione quanto è basato sulla nostra strategia il fatto è che la missione la fa lo Spirito Santo e dunque il cristiano è missionario quanto più dà spazio allo Spirito Santo dà spazio a Dio, lascia che sia Dio ad agire lascia che sia poi la vita trasformata, la testimonianza di vita a diventare appunto testimonianza che interessa che fa percepire la bellezza della vita e dunque che può incuriosire o avvicinare le persone non siamo noi che convertiamo è sempre Dio che converte i cuori i suoi tempi e le sue strade sono conosciute solo a Lui e noi siamo tutti servi inutili anche perché la Chiesa come ama sottolineare Papa Francesco riprendendo una frase importante del suo predecessore Benedetto la Chiesa cresce per attrazione e non per proselitismo che cosa significa? attrazione significa che non è perché tu ti sei messo in testa di fare un bel discorso o hai pensato qualche strategia comunicativa che il Vangelo passa il Vangelo passa se i cristiani lo vivono se lo vivono non se lo dicono e se lo vivono nei loro rapporti nel modo con cui usano il tempo nel modo con cui si vogliono bene se testimoniano che il cristianesimo è vivo questa è la missione Perché il recente Sinodo per l'Amazzonia parla alla Chiesa di tutto il mondo? Perché partendo dalle difficoltà degli indigeni del Sud America i padri sinodali hanno riflettuto sui problemi della terra? Telepace farà il punto sul Sinodo proprio questa sera in Direttamente Su ospiti in studio i padri della Consolata di Lavagna Lino Tagliani e Saverio Garello che per anni sono stati missionari in Amazzonia collegata da Roma la teologa Rosanna Virgili tra i contributi una lunga intervista ad Andrea Tornielli e al Cardinale Angelo Bagnasco l'inizio è fissato per le 21.10 su Telepace 1 questa sera non perdete questo importante appuntamento che Telepace vi offre Cambiamo argomento la Giunta di Chiaveri ha approvato il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne l'importo complessivo per i tre lotti di intervento è pari a 2.050.000 euro le opere principali riguarderanno la bonifica del manto di copertura la ristrutturazione degli spogliatoi il rifacimento degli impianti la ristrutturazione degli spazi e degli arei interni la realizzazione di un cappotto alla struttura il primo lotto che interesserà il rifacimento del tetto la sostituzione della caldaia e la creazione di un nuovo impianto solare termico e fotovoltaico una volta bandita la gara entro il 2019 partirà entro l'estate del 2020 sarà discussa durante il prossimo consiglio comunale la delibera che esprime la solidarietà del comune di Sessilevante a Liliana Segre e a tutte le vittime di ogni forma di razzismo antisemitismo e discriminazione e che condanna tutte le manifestazioni di odio e intolleranza il documento impegna l'amministrazione comunale a far pervenire alla senatrice Segre il messaggio di stime e di solidarietà per le aggressioni di cui è stato oggetto e il profondo rispetto per la sua storia personale che la rende preziosa testimone di una tragedia all'olocausto sul quale non è tollerabile alcun revisionismo, negazionismo o sottovalutazione la delibera impegnerà inoltre l'amministrazione comunale a conferire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria invitandola in città per portare la propria testimonianza Un invito al Vescovo Monsignor Tanasini affinché visiti il Consiglio Comunale di Sessi Levanti in occasione della prossima visita pastorale oppure incontri i consiglieri la giunta e i cittadini impegnati in politica e nella vita amministrativa della città è la proposta dei consiglieri comunali Paolo Smeraldi e D'Albino Armanino contenuti in una mozione da discutere nel corso della prossima riunione del Consiglio Comunale la visita pastorale a Sessi Levanti inizierà il 17 di novembre una amicizia lunga 25 anni e che da quando entrambi sono diventati sindaci nei rispettivi comuni di residenza è diventata gemellaggio ufficiale tra le due località loro sono Matteo Viacava e Silvano Parmesani i primi cittadini rispettivamente di Portofino e di Canazzei che ieri hanno rinnovato il loro legame dopo la Santa Messa celebrata nella chiesa del Divo Martino in occasione della festa patronale di Portofino un corteo di figuranti ha sfilato fino alla piazzetta dove sono andati in scena danze e balli tipici del Tirolo vediamo Che avete portato qui oggi? Oggi abbiamo portato dei gruppi che diciamo rappresentano solitamente anche il nostro paese abbiamo gli alpini che comunque sono sempre mitici in tutta l'Italia che approfitto per salutare tutti gli alpini d'Italia abbiamo portato il nostro gruppo folcloristico che voi sapete noi abbiamo come dire il nostro territorio è una terra laddina e quindi abbiamo portato dei costumi tipici delle nostre zone che sono storici e quindi abbiamo preso il gruppo folcloristico in rappresentanza di questi poi abbiamo preso il gruppo delle maschere o le mescres e le maschere da noi il carnevale è molto sentito e ci sono queste figure che vedrete c'è il buffon che è facile anche da tradurre il buffon e poi abbiamo il lachè il marascons che suonano qui i campanaci e quindi abbiamo portato anche loro qui in rappresentanza della nostra terra e della nostra cultura Cosa comuna secondo lei il Canesei a Portofino? Ma direi innanzitutto una forte amicizia tra i nostri primi cittadini perché sono molto amici e poi hanno inconvolto un po' tutta la popolazione anche su da noi il sindaco di Portofino è salito tante volte e ci ha un po' conosciuto e insomma certamente una fratellanza e un'amicizia è un gemellaggio che è proprio nato dal cuore perché frequentandoci abbiamo detto uniamo le nostre due comunità che sono persone comunque che hanno degli ideali e delle caratteristiche simili la tenacia la forza l'attaccamento al territorio la bellezza e la natura del nostro paese e da lì poi è nato il gemellaggio che abbiamo fatto due anni fa ed oggi finalmente dopo purtroppo dovevano venire già l'anno scorso per ovvi motivi non sono potuti venire a novembre però avevano mandato comunque la stella che ricordo ce la portiamo nel nostro cuore perché avevano illuminato in quei giorni molto duri dell'isolamento di Portofino il Natale e il Capodanno era la nostra luce nella piazza perciò era la luce di Canazzei che illuminava Portofino oggi finalmente avendo passato anche quel brutto periodo siamo qua a festeggiare insieme agli amici i fratelli io li denomino proprio fratelli di Canazzei passiamo alla cronaca un incidente autostradale questa mattina intorno alle ore 10 nel tratto Sestri Levante Lavagna ha coinvolto un auto un furgoncino quest'ultimo è stato tamponato dalla vettura fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone a bordo l'uomo e la donna che erano a bordo dell'auto sono state trasportate in codice giallo presso l'ospedale di Lavagna dall'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso il traffico è rimasto fermo per alcuni minuti durante un controllo antidroga effettuato dai carabinieri nel fine settimana sono state denunciate due persone un 46enne domiciliato a Santa Margherita trovato con 4 grammi di cocaina e un 52enne di rapallo scoperto con 25 grammi di hashish nel fine settimana gli agenti del commissariato di Chiavari hanno tratto in arresto in due distinte operazioni due soggetti per reato di spaccio il primo arresto è avvenuto nel pomeriggio di sabato quanto dopo le segnalazioni di alcuni abitanti della zona del centro storico gli agenti hanno fermato un 59enne italiano che aveva appena ceduto delle sostanze stupefacenti all'interno del suo appartamento hanno rinvenuto circa 40 grammi di eroina due bilancini di precisione materiale per il confezionamento e 260 euro in contanti provento dello spaccio il secondo arresto è avvenuto durante un intervento per l'ita in famiglia il personale della polizia è intervenuto all'interno di un appartamento di Chiavari dove era stata segnalata una lita tra giovani coniugi nata a causa del rientro tardivo a casa del marito durante la discussione i poliziotti hanno capito che il giovane era stato fuori a lungo perché è impegnato nell'attività di spaccio quindi è scattata immediatamente la perquisizione durante la quale sono stati rivenuti circa 23 grammi di marijuana già suddivise in dosi e tre bilancini di precisione intervento di soccorso a persona ieri pomeriggio nella zona di San Fruttuoso a Camogli un turista comasco 73 anni mentre percorreva un percorso del parco è caduto procurandosi un trauma cranico ed alcune escoriazioni sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno provveduto a immobilizzare su una barella spinale l'uomo che poi è stato trasferito via mare al vicino porto di Camogli trasporto effettuato a bordo di una motovedetta dalla Capitaneria di Porto quindi fortunato è salito a bordo di un'autoambulanza per raggiungere l'ospedale San Martino di Genova torna a Sesti Levante la rassegna Mondovisioni un ciclo di film indipendenti che aiutano a capire con occhio diverso alcuni temi di attualità l'iniziativa è promossa da Zuccaramaro dall'associazione Il Bandolo Popolo Solidali la Nassa e dal gruppo Tassano domani alle 20.45 al convento dell'Annunziata il secondo appuntamento vediamo 5 racconti che illuminano il nostro tempo per la quinta edizione consecutiva sbarcano a Sesti Levante i documentari della rivista internazionale la cui rassegna Mondovisioni è curata da CineAgenzia pellicole che aiutano a trovare spunti per leggere il mondo in modo più consapevole ci mette davanti a delle domande delle domande su che cosa e come pubblicare ma anche poi come orientarsi rispetto a un mare magnum che sembra di maggiore informazione ma spesso è solo di confusione quindi sicuramente una riflessione sui mezzi e sui contenuti l'apertura di Mondovisioni ha proposto Bellincat pellicola olandese del 2018 dedicata al giornalismo contemporaneo dove un gruppo di ricercatori online è impegnato a svelare la verità dietro notizie e vicende provenienti da tutto il mondo la difficoltà di capire se e come una notizia sia vera e soprattutto nuove forme di giornalismo molto più partecipativo e molto più dal basso che mettono insieme professionalità ma anche passione per cui come informarsi in un momento in cui sembra difficile orientarsi non soltanto nella rete ma davvero con quelli che erano strumenti abituali fino a poco tempo fa si prosegue martedì 12 novembre con Midnight Traveler il viaggio di una famiglia in fuga dall'Afghanistan martedì 19 toccherà ad Human Nature di Adam Bolt una riflessione su come scienza e tecnologia hanno un impatto sempre più forte sulla società dopo una pausa Mondovisioni tornerà il 3 dicembre con Mission Lifeline dedicato al tema dei migranti per concludere il ciclo il 10 con Leftover Woman sull'emancipazione della donna in Cina tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito pensiamo che una rassegna di documentari indipendenti che ci raccontano il mondo contemporaneo nella sua complessità possa essere un buon modo per passare i martedì sera e per riuscire a riflettere e incontrarci anche un po' in inverno si svolgerà a Lavagna dal 15 al 17 novembre sono tutti i cavoli nostri manifestazione che vuole promuovere la città attraverso i suoi prodotti di eccellenza venerdì pomeriggio si parte ufficialmente con l'apertura degli stand dei prodotti di eccellenza sotto il porticato Brignardello a cui seguiranno diversi momenti di approfondimento e di dibattito abbiamo realizzato un servizio sull'argomento lo vediamo insieme valorizzare e promuovere il patrimonio agroalimentare della Piana dell'Entella per tutelare le tradizioni storico-culturali parlare di educazione ambientale e di tutela della salute degli individui nasce con questo spirito l'iniziativa sono tutti i cavoli nostri in programma a Lavagna da venerdì a domenica prossimi protagonisti non solo il cavolo lavagnino preso come simbolo del territorio ma anche gli antichi ortaggi del Tiguglio evodop il basilico la dieta mediterranea e la nocciola misto Chiavari giovedì della città che verranno accompagnati dalle maestre negli orti della Piana i piccoli hanno anche realizzato tanti disegni a tema che sono già esposti nelle vetrine del centro storico venerdì poi l'apertura degli stand dei prodotti di eccellenza sotto al porticato Brignardello ci saranno diversi agricoltori che esporranno e potranno vendere i loro prodotti di eccellenza alcuni di Lavagna altri anche del circondario quindi dell'entroterra abbiamo sempre sotto al porticato Brignardello una zona dedicata agli show cooking ai laboratori alle dimostrazioni avremo invece in sala Campodonico due appuntamenti importanti due conferenze una al venerdì pomeriggio alle 4 e una al sabato mattina alle ore 11 poi avremo altra cosa molto importante abbiamo organizzato tre visite guidate sugli orti sono visite guidate da una guida ambientale gratuite le persone verranno accompagnate su il seggiun che è l'antico argine napoleonico molto importante per far conoscere una parte di lavagna del tutto inedita è la prima manifestazione dopo tre anni di nulla a seguito del commissariamento ed era necessario per noi iniziare proprio dai nostri prodotti agroalimentari che sono prodotti d'eccellenza quindi parlare della piana dell'entella e parlare del porticato Brignardello perché comunque la manifestazione si svolgerà all'interno del porticato che per tanti anni è stato sottovalutato e invece per noi è un punto di riferimento per tutte le manifestazioni che ci saranno nel prosieguo l'accademia culturale di Rapallo ha inaugurato il 42esimo anno di attività presso l'auditorium delle Calarissie si è svolta la cerimonia d'apertura dei corsi alla presenza di un pubblico numeroso il filo conduttore dell'anno 2019-2020 sarà Pianeta Terra quale futuro? circa 90 le conferenze in programma che si svolgeranno nella serie di Villa Queirolo sono inoltre previste numerose attività collaterali oltre a gite ed esperienze culturali fuori Rapallo le elezioni sono tenute da docenti esperti nei vari settori in occasione dell'inaugurazione è stata ufficializzata la nomina del nuovo presidente del sodalizio Guido Gigli che succede al past president Giorgio Caralis continuano le segnalazioni per la mancanza di segnale televisivo RAI nella zona di Chiavari lei via Carasco tra diversi giorni nelle abitazioni di questo territorio non si vedono i canali del servizio pubblico il problema interessa il ripetitore del curlo di Leivi i tecnici sono a conoscenza del guasto ma non sono ancora riusciti ad intervenire sulla sincronizzazione degli impianti e ora come di consueto andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per domani martedì 12 novembre la sigla appuntamenti in agenda per martedì 12 novembre orientamenti 2019 al Porto Antico di Genova la tre giorni con stand di presentazioni dedicate alle scuole e percorsi formativi degli studenti verrà inaugurata dalle 9 alle 20 presentazione dell'attività di protezione civile e delle squadre di antincendio boschivo dedicata a ragazzi della scuola primaria e secondaria l'appuntamento dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 riplessi del villaggio del ragazzo del Cogorno capoluogo dalle 9 alle 13 in via Salvi zona Tannino e Sastri Levante sarà allestito il mercato agricolo e delle autoproduzioni a chilometro zero possibilità di acquisto diretto di prodotti agroalimentari della zona il museo scientifico Leonardini Sanguinetti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12 nei locali del seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi dell'ottocento apertura dalle 9 alle 14 per il museo archeologico al primo piano di Palazzo Rocca in via Costa Aguta a Chiavari in esposizione reperti e testimonianze archeologiche provenienti dal territorio chiavarese dalle 13.30 alle 14.30 all'auditorio San Francesco di Chiavari si terrà l'incontro di formazione sull'utilizzo del defibrillatore DAE dal titolo Ci sta a cuore il tuo cuore prima giornata del festival letterario incipite al Castello di Albertis di Corso d'Ogali a Genova alle 16 l'incontro con il mondo di Emilio Salgari con Anselmo Roveda e Marco Paci ne seguiranno altri ma dell'incontro nell'ambito del quindicesimo corso di cultura genovese alle 16.30 nella sala Liberare in via del Pino a Chiavari sarà ricordato Giuliano Vignolo interverranno Marco Raffa Marina Ravela e Tito Mangiante prosegue a sessere levante la rassegna Mondovisioni documentari di Internazionale con Midnight Traveler di Asan Fazil alle 20.45 nella sala Agave del convento dell'Annunziata celebrato l'anniversario della vittoria e la festa delle forze armate nella giornata di domenica l'amministrazione comunale ha portato l'omaggio ai monumenti cadute ai cimiteri cittadini il corteo era formato dal sindaco dagli amministratori comunali dall'autorità militare dalle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e l'arma dall'Ampi dalla banda di Cristoforo Colombo e le associazioni cittadine con le rispettive bandiere che ha portato il proprio omaggio ai monumenti ai cadute al cimiteri cittadini è stata inoltre celebrata la Santa Messa nella Basilica cittadina e prima della menzione finale è stata letta anche la preghiera della patria domani martedì 12 alle ore 12 nel sedicesimo anniversario della strada di Nassiria in Iraq dove un attentato costò la vita 19 nostri connazionali e previsse una cerimonia di commemorazione alla presenza del sindaco e delle autorità civili e militari nell'omonimo parco di Via della Madonnetta dove sorge la cosiddetta pista delle quartiere di corte in occasione della giornata del ricordo dei caduti delle missioni internazionali domani l'amministrazione comunale di Rapallo deporrà una corona dall'oro sulla lapide marmorea in piazza caduti di Nassiria tigua alla chiesa di Sant'Anna la cerimonia si interrà alle ore 9 e ora passiamo allo sport la Virtus Entella dopo il pareggio Casalingo contro il Pordenone guarda con favore la sosta di campionato programmata per le partite delle nazionali nella sfida successiva al Bente Godi di Verona contro il Chievo sarà possibile recuperare alcuni acceccati sabato 16 novembre intanto in occasione della sosta i bianco celesti di mister Boscaglia giocheranno un amichevole allo stadio Franchi contro la Fiorentina la partita inizierà alle ore 15 sentiamo le interviste che abbiamo realizzato come possiamo interpretarlo è un punto importante oppure per come si era messa la partita la mare in bocca per non averla vinta si c'è un po' di rammarico perché ci abbiamo provato tutti i modi ci siamo messi anche 4-3-1-2 dopo l'espulsione peccato il loro portiere ha fatto anche qualche gran parata però dai anche di merito nostro se non si è riuscito a fare gol ci stiamo lavorando anche da un po' di tempo però credo che non manchi molto per per sbloccarci e per trovare quella vittoria magari un po' larga che ci fa star sereni un campionato nel quale gli episodi contano tantissimo oggi pesano con le due occasioni che ha avuto Lentella più o meno a 20 minuti della fine nel quale è veramente mancato pochissimo per segnare gol da 2-1 sì sì infatti intendevo quelle dobbiamo essere un po' più cinici e magari aspettarci che chiunque si trovi lì può essere la palla della vita la palla gol che ci fa vincere la partita ci stiamo lavorando in settimana con il mister ti ripeto manca solo quello perché alla fine poi la partita riusciamo anche a gestirla bene facciamo anche un gran possesso palla però ci manca un po' di cinismo lì davanti e niente poi magari possiamo limare qualcosa dietro però anche oggi abbiamo subito poco il Pordenone ha fatto la sua partita però ha ben rischiato di vincere e niente testa alla prossima questo oggi il gol è mancato veramente per centimetri no innanzitutto sono molto felice di essere entrato e di aver dato un contributo comunque alla squadra purtroppo siamo rammaricati perché la palla oggi non voleva entrare però siamo fiduciosi anche in settimana ci siamo parlati tra di noi ci siamo detti che comunque dobbiamo essere più cinici vedi anche a Salerno l'occasione di Inizietto e di Beppe De Luca e niente continuiamo a lavorare sperando in bene come si migliora questo aspetto perché siete tutti i ragazzi che il gol lo avete sempre fatto manca sempre qualcosina per portare a casa queste partite eppure create tanto è un discorso mentale secondo te Emanuele ma no come dici tu creiamo tanto però sotto porta siamo poco cattivi ci alleniamo comunque bene siamo tutti uniti sappiamo che comunque siamo una squadra forte bisogna soltanto lavorare curare qualsiasi dettaglio essere più cattivi sotto porta adesso forse la sosta arriva nel migliore di modi c'era anche un po' bisogno di rifiattare magari anche di recuperare qualche giocatore no questa sosta ci permette di lavorare ancora di più colmare le nostre lacune e comunque far sì che le prossime partite andranno meglio passiamo ai dilettanti secondo vittorio per la Lavagnese Carriboli nell'undicesima giornata di Serie D è sconfitto 1-0 il Chieri gol vittoria al 19esimo nel primo tempo porta la firma d'Orsi che servito da Bellucci si è insinuato tra le maglie avversarie ha trafitto l'incolpevole Luppi i tre punti portano i bianconeri a 10 punti in classifica in penultima posizione Prorecco vittoriosa 21-13 in trasferta contro la Nover nella quarta giornata della Champions League di pallanuoto partita equilibrata con i tedeschi che si sono tenuti a contatto fino a metà gara chiuso con un parziale di 7 pari decisivo il terzo e il quarto in cui gli uomini di Rudic si sono portati avanti con un parziale di 6-0 risultato finale è stato 21-13 con Velotti e Cajes migliori marcatori con 4 reti ciascuno questa era l'ultima notizia del nostro giornale il prossimo appuntamento con informazione come sempre rinnovato a domani all'ore 12.45 conti gugli oggi vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione vi rimando all'appuntamento con direttamente su questa sera intorno alle 21.10 buona serata a tutti arrivederci a tutti